Un posto al sole trame 2-3 aprile, Edoardo prende una decisione in attesa sulla gravidanza. Nelle puntate del 2 e 3 aprile di Un posto al sole, Edoardo prende una decisione inaspettata riguardo alla gravidanza di Clara, mentre Alberto si convince che Clara stia per abortire. Il trailer afferma inoltre che Michelle cerca di parlare con Silvia del loro momento appassionato, ma lei si rifiuta di affrontare l'argomento. Infine, la crisi tra Guido e Mariela è aggravata dalla presenza imbarazzante di Beas. Il difficile bivio di Clara e la fragile certezza di Alberto Clara affronterà giorni molto difficili e sarà molto preoccupata per la sua gravidanza. In effetti, Sabi finisce per prendere decisioni sul figlio di Clara. Ma il suo incontro con Edoardo si rivelerà molto importante. Anche se nel trailer non è detto esattamente, è possibile che Edoardo torni insieme alla donna che ama e la convinca a portare avanti la gravidanza. Infatti, guardando alle trame future, è chiaro che Edoardo collaborerà con la giustizia, ed è facile credere che la sua priorità sia quella di essere una persona migliore per suo figlio. Nel frattempo, un ignaro Alberto rimarrà convinto che Clara voglia abortire e sarà sollevato di poter ricucire il suo rapporto con lei. Oltre a Marica, anche Giulia è al fianco di Clara in questo periodo critico e la sostiene in ogni decisione. Michele non si pentirà della sua passione per Silvia. L'attenzione è puntata anche su Silvia e Michele, che mostrano reazioni diverse dopo essere stati immersi nella passione. Sabiani proverà ad affrontare l'argomento con l'ex moglie, ma lei dice che non parlerà di quello che è successo. Al contrario, Silvia cercherà di fuggire nella vita con Giancarlo e di dimenticare il suo approccio con Michele. Guido e Mariela continueranno a prendere le distanze, e la presenza imbarazzante di Biese non aiuterà la coppia. Guido e Mariela, alla fine è amore? Cosa accadrà a Guido e Mariela? È stato sorprendente vedere una delle coppie più solide di un posto al sole finire improvvisamente in crisi negli ultimi episodi. Quando l'uomo tornò da Barcellona, ci fu un piccolo litigio tra Guido e Mariela. Ma non c'è un forte fattore scatenante per questo. La poliziotta si lamentò con il marito dicendo che pensava di punirlo uscendo con Biese perché era stato troppo bruttino a Napoli. Perché chi segue le soap partenopee sa che queste discussioni sono sul tavolo da anni. A Edelwey non è successo nulla di grave. Inoltre, quando Guido cominciò a non sentirsi bene, Mariela ebbe molta paura e divenne molto attenta nei suoi confronti. Il poliziotto ha confidato a Michele di provare una forte intolleranza nei confronti di Mariela e delle sue amiche da quando lei si è ammalata. Altrimenti, nel prossimo episodio potrebbe succedere qualcosa che lo avvicinerà a lei. Guido potrebbe rendersi conto di non amare più sua moglie.